il privilegio del sacerdote questa è la storia di un uomo che non apprezzava sua moglie e di una donna che dandosi a lui gli aveva reso un onore troppo grande vi si parla tra l'altro di un sacerdote gesuita che non era mai stato colto a mentire egli era parte e parte essenziale del paese dello yukon ma la presenza degli altri due era puramente casuale essi appartenevano al campionario dei monti strani vagabondi giunti con una grande ondata dei cercatori d'oro o rimasti indietro dopo il suo passaggio edway bentham e grace bentham erano vagabondi ed erano vagabondi di retroguardia poiché la corsa al klondike del aveva da tempo spazzato completamente il grande fiume e si era fermata nella città di dawson colpita dalla carestia quando lo yukon chiuse bottega e cadde in un sonno profondo sotto un lenzuolo di gaccio spesso un metro questa coppia paritetica si ritrovò alle rapide del five fingers con un viaggio di molte notti ancora da compiere verso il nord per arrivare alla città dell'oro una grande quantità di capi era stata macellata in questo luogo verso la fine dell'anno precedente e i resti formavano un gran mucchio i tre compagni di viaggio di edwin bentham e sua moglie si fermarono a considerare questo deposito fecero un piccolo calcolo matematico intravidero una qualche possibilità di arricchimento e decisero di rimanere e tutto l'inverno vendettero sacchi di ossa e pelli congelate alle mute di cane affamati chiedevano un prezzo modesto un dollaro ogni mezzo chilo parti buone e cattive insieme sei mesi più tardi quando tornò il sole e lo yukon riemersi alla vita indossarono le pesanti cinture di denari e ripresero il viaggio verso sud dove vivono ancora raccontando storie inventate su un klondike che non hanno mai visto ma edwin bentham era un tipo indolente e se non avesse avuto moglie volentieri si sarebbe unito alle speculazioni delle carni per cani ma le cose andarono diversamente lei fece leva sulla sua vanità gli parlò di quanto era grande e forte e che un uomo come lui sarebbe certamente stato in grado di superare tutti gli ostacoli per conquistare il vello d'oro così l'uomo si strinse i denti vendette la sua parte di ossa e pelli per una slitta e un cane e volse le racchette da neve verso il nord inutile a dirsi le racchette di grace bentham non permettevano alle tracce lasciate da lui di raffreddarsi anzi prima che passassero tre giorni di fatiche si vide l'uomo seguire dietro e la donna che apriva la pista davanti naturalmente se c'era qualcuno nei dintorni la posizione veniva immediatamente ribaltata in questo modo l'immagine della virilità rimaneva vergine agli occhi dei pochi viaggiatori che passavano come fantasmi sulla pista silenziosa esistono uomini così in questo nostro mondo com'era avvenuto che un tale uomo e una tale donna si fossero scelti per la buona e la cattiva sorte è rilevante per questa storia sono cose familiari a tutti noi e coloro a cui accadono coloro che si pongono troppe domande in proposito rischiano di perdere di vista il senso di una fede bella conosciuta come l'eterna armonia della scelta dei sessi edwin bentham era un ragazzo messo per errore nel corpo di un uomo un ragazzo capace di divertirsi a staccare una alla volta le ali a una farfalla o capace a farsi piccolo piccolo per terrore davanti a un tipo sottile ed energico grande la metà di lui era un bambino pienucoloso ed egoista nascosto sotto i baffi e la statura di un uomo appena coperto da uno strato sottilissimo di vernice di cultura e di buona educazione sì era anche un frequentatore di circo e della buona società il tipo che conferisce grazia alle relazioni sociali e parla di nulla con un fascino e un compiacimento indescrivibile il tipo che fa il gradasso e poi piange per un mal di denti il tipo che riesce a rendere la vita della donna che sposa un inferno peggiore di quanto potrebbe fare il più disgraziato libertino che si aggira per i pascoli proibiti sono uomini che incontriamo ogni giorno ma raramente li riconosciamo per quello che valgono col che a sposarli il miglior modo per individuare il tipo è di mangiare alla stessa tavola e dividere lo stesso letto con loro per diciamo una settimana basta e avanza vedere grace bentham era vedere una creatura sottile dall'aspetto quasi di un adolescente conoscerla significava accostarsi a un animo di fronte al quale ci si sentiva quasi dei nani e che tuttavia conservava in sé intatto ogni elemento dell'eterno femminino questa era la donna che spronava e incoraggiava il marito nella sua ricerca verso la terra del nord che apriva le piste per lui quando nessuno li vedeva e in segreto piangeva il suo debole corpo di donna fu così che questa coppia stranamente assortita discese verso il vecchio forte selkirk per poi proseguire attraverso 96 chilometri di squalli da solitudine fino allo stuart river e quando giunse la fine dell'ultima breve giornata di luce e l'uomo giacque nella neve lamentandosi fu la donna che lo legò alla slitta e mordendosi le labbra per il dolore delle membra sfinite aiutò il cane a trascinarlo nella capanna di malmut kidd malmut kidd non c'era ma meyers il mercante tedesco cucinò per loro delle grandi bistecche di alz e sistemò un letto di ramoscelli di pino nuovi lake langham e parker erano eccitati e non ingiustificatamente se se ne consideri la causa oh sandy ma sapete la differenza tra un ristorante e un boccone alla svelta vieni ad aiutarmi via il richiamo veniva dalla cantina dove langham stava lottando vanamente con più di un quarto di alce gelato non mollare quei piatti ordinò parker dico sandy fai il bravo ragazzo fai un salto al missuri camp e prendi in prestito un po' di cannella implorò lake oh spicciati perché non ma il rumore assordante che giunse dalla dispensa troncò bruscamente la richiesta tanto urgente muoviti sandy ci vorrà un minuto ad andare giù al missuri lascialo stare interruppe parker come faccio a preparare la pasta dei biscotti se non mi sgombrate la tavola sandy si fermò indeciso finché gli balenò alla mente all'improvviso che dopo tutto era alle dipendenze di langham allora quasi scusandoci gettò lo straccio unto dei piatti e andò in aiuto del suo padrone questi promettenti rampolli di ricchi genitori erano venuti nelle terre del nord in cerca di gloria con parecchio denaro in tasca e un uomo per ciascuno al loro servizio fortunatamente per loro gli altri due aiutanti erano al white river in cerca di un mitico banco di quarzo così sandy doveva stringere i denti con la responsabilità sulle spalle di tre ricchi padroni ciascuno dei quali aveva in testa le proprie idee in fatto di cucina due volte quella mattina l'equilibrio dell'accampamento era stato vicino alla distruzione il pericolo era stato scongiurato solo da immense concessioni ora dell'uno ora dell'altro di quei cavalieri dei fornelli ma finalmente la loro opera in collaborazione un pranzo davvero squisito fu pronta poi si sedettero al gioco a tre del tagliagole mettendo così fine ad ogni casus belli precedente e stabilendo che il vincitore partisse per l'importante missione degli inviti la fortuna toccò a parker che si pettinò accuratamente i capelli con la riga nel mezzo mise i guanti e il cappello di pelliccia d'orso e si recò alla capanna di malmute kid quando tornò era in compagnia di grass bentham e di malmute kid la prima molto dispiaciuta che il marito non potesse dividere con lei la loro ospitalità egli era andato infatti a dare un'occhiata alle meniere di Henderson Creek e il secondo ancora un po' intirizzito per il freddo e la stanchezza del viaggio di ritorno dallo Stuart River Myers era stato invitato ma aveva rifiutato troppo preso in quel momento nella sperimentazione del luppolo come lievito per il pane bene, potevano fare a meno del marito ma una donna, diciamo la verità non ne avevano vista una in tutto l'inverno e la presenza di questa prometteva l'inizio di una nuova era per le loro vite erano uomini colti e uomini di mondo questi tre giovanotti ansiosi di avere un po' di quelle distrazioni che gli erano state negate così a lungo forse Grace Bentham soffriva di un'analoga esigenza o quantomeno era una sera molto importante per lei la prima ora di luce in tante settimane di oscurità ma quel meraviglioso primo piatto la cui paternità era rivendicata dal versatile Lake era appena stato servito che ci udì un forte colpo alla porta ah, non volete entrare, Mr. Bentham? disse subito Parker che si era alzato a vedere chi fosse il nuovo venuto c'è mia moglie? rispose accidiato quel campione ma sì, l'abbiamo lasciato detto a Mr. Myers Parker si sforzava di usare i toni più cortesi anche se dentro di sé era alquanto perplesso non volete entrare? vi aspettavamo da un momento all'altro e vi abbiamo tenuto al posto e arrivate proprio in tempo per il primo piatto entra, Edwin caro singuetò Grace Bentham dal suo posto a tavola Parker naturalmente si fece da parte per farlo entrare voglio a mia moglie ripete Bentham con voce rauca e uno spiacevole tono da padrone Parker restò bocca aperta sul punto di appioppare un pugno sulla faccia da quel visitatore villano ma riuscì astento a dominarsi tutti si alzarono lei che perdette la testa e si ritrovò a dire dovete proprio andare poi cominciò la confusione dei saluti è stato così gentile da parte vostra sono desolato per Giove che piacere è stato davvero? ora voi? grazie ancora di cuore felice viaggio ad Oson eccetera eccetera così l'agnello fu aiutato a rivestirsi e consegnato allo scannatore la porta sbatté e i quattro uomini contemplarono con tristezza il tavolo deserto annazione l'educazione di Langham aveva avuto delle lacune in gioventù e le sue imprecazioni erano deboli e monotone annazione ripete vagamente cosciente dell'inadeguatezza dell'espressione e cercandone in vano una più forte è davvero una donna abile colei che riesce a colmare le tante lacune di un uomo inefficiente con la sua sola indomabile forza che restituisce vigore alla natura vacillante di lui infonde il proprio animo ambizioso nel suo e lo sprone verso sempre nuove imprese ed è davvero una donna molto abile piena di tatto colei che riesce a fare tutto questo e a farlo con tanta sottile abilità che l'uomo non solo ne riserve ogni credito ma rimane convinto nel profondo del proprio cuore che tutto è dovuto a lui e a lui solo questo è quanto faceva Grace Bentham arrivando ad Oson con pochi chili di farina e molte lettere di presentazione ella si dedicò subito al compito di lanciare il suo bambinone nell'ambiente fu lei ad addolcire il cuore di pietra e ad ottenere fiducia da quel rozzo barbaro che precedeva i destini della PC Company tuttavia fu ad Edwin Bentham che la concessione venne ufficialmente concessa fu lei a trascinare il suo bambinone su e giù per Creek sopra banchi e creste rocciose e in una dozzina di selvagge corse tuttavia tutti non facevano che dire che tipo energico fosse quel Bentham fu lei che studiò mappe e fece parlare minatori e impresse nella testa di lui nozioni geografiche e località finché tutti si meravigliarono della vasta conoscenza che lui avesse del paese e delle sue condizioni naturalmente diceva che la moglie gli era di peso e solo pochi lungimiranti apprezzavano e compativano la piccola donna coraggiosa lei faceva il lavoro lui ne riceveva il merito e la ricompensa nel territorio del nord-ovest una donna sposata non può picchettare o registrare una concessione di un Creek di banchi o rocce di quarzo così Edwin Bentham andò dal commissario dell'oro e registrò a proprio nome la concessione numero 23 seconda fila della French Hill e aprile gli trovò che già stavano ricavando dai lavaggi oltre mille dollari al giorno con molti molti giorni simili in prospettiva dinanzi a loro ai piedi della French Hill c'era il dorado Creek e su una concessione di quel Creek c'era la capanna di Clyde Wharton al momento egli non portava avanti lavaggi giornalieri per mille dollari ma i mucchi di terra urifera crescevano a ogni curva e sarebbe venuto il momento in cui quei mucchi sarebbero passati nelle padelle di lavaggio depositando sul fondo nel corso di cinque o sei giorni banconote per varie centinaia di migliaia di dollari spesso seduto dentro la sua capanna lui fumava la pipa e sognava tanti bei piccoli sogni sogni nei quali non avevano parte né i mucchi di terra urifera né la mezza tonnellata di polvere d'oro conservata nella grossa cassaforte della PC Company e Grace Benton mentre lavava i piatti di latta nella sua capanna sul fianco della collina lanciava spesso occhiate del dorado Creek e sognava e neanche nei suoi sogni comparivano mucchi di terra o polvere d'oro i due si incontravano spesso il sentiero che portava ad una delle due concessioni attraversava infatti quello che portava all'altra e ci sono tante cose di cui parlare a primavera nella terra del nord ma mai una volta non con uno sguardo o con una parola i due si erano aperti il loro cuore così almeno fu all'inizio ma un giorno Edwin Bentham si comportò in modo brutale succede a tutti i ragazzi e inoltre essendo ormai un re della French Hill cominciava ad avere un'altra opinione di se stesso e a dimenticare quanto doveva sua moglie quel giorno Vartorn udì e attese Grace Bentham all'incrocio delle piste e fu un discorso selvaggio il suo lei ne fu tanto felice ma non volle ascoltare e lo fece promettere che mai avrebbe più parlato in quel modo il loro momento non era ancora giunto ma in sole comparve di nuovo al nord l'oscurità della notte si mutò nel colore metallico dell'alba la neve scivolò via l'acqua tornò a scorrere nei ruscelli glaciali e il lavaggio della terra aurifera ricominciò giorno e notte l'argilla giallastra e i frammenti di roccia passavano attraverso le griglie dei lavaggi pagando il loro riscatto ai forti uomini del sud e in quell'ora di tumulto giunse anche l'ora di grace bentham per tutti noi giungono prima o poi questi momenti per quelli di noi almeno che non conoscono l'inerzia sa chi è buono infatti non per un dono innato di virtù ma per pura giustizia ma chi tra di noi ha conosciuto momenti di debolezza può capire edwin bentham era occupato ad usare polvere d'oro nel bar del salone a forx tutto sommato troppo del suo oro passava su quel banco ad abete e in quello stesso momento sua moglie scendeva la collina e varcava la soglia della capanna di Clyde Wharton Wharton non l'aspettava ma questo non cambia nulla e molta dell'infelicità e delle vani attese che seguirono avrebbero potuto essere evitate se il destino non avesse voluto che padre Rubo assistesse alla scena e deviasse dalla pista principale del cric che stava percorrendo figlio mio un momento padre Rubo sebbene io non sia della vostra fede tuttavia vi rispetto profondamente ma non avete alcun diritto di intromettervi tra questa donna e me ma sapete voi quello che state facendo saperlo foste anche di onnipotente pronto a gettarmi nell'eternità del fuoco opporrei ogni mia volontà alla vostra in questa faccenda Wharton aveva messo Grace a sedere su uno sgabello e le si ergeva dinanzi quasi a difenderla sedetevi su questa sedia e state tranquillo continuò rivolto al gesuita vi dirò le mie ragioni e voi direte le vostre padre Rubo inchinò il capo cortesemente e ubbidì era un uomo di buon carattere e da tempo aveva preso l'arte di saper aspettare Wharton spinse uno sgabello accanto alla donna e le strinse le mani tra le sue allora mi volete mi porterete via di qui e il volto di lei sembrava riflettere la serenità dell'uomo sul petto del quale si stringeva come a cercare protezione cara non ricordate quello che vi ho già detto ma certo che io e come farete e i lavaggi pensate che mi preoccupi di questo in ogni caso darò il mio posto a padre Rubo che sta qui e che sono certo affiderà la polvere alla compagnia pensate non rivederlo mai più che benedizione e andarsene oh Clyde non posso non posso ma sì sì sicuro che potete lasciate che io prepari un piano appena sono riuscito a organizzare un qualche mezzo di trasporto partiremo e e se lui ci seguisse vi spezzo no no nessuna violenza Clyde questo me lo dovete promettere va bene dirò soltanto ai miei uomini di buttarlo fuori dalla concessione hanno visto come vi ha trattato e già lo vedono poco di buon occhio non devi far questo non devi fargli del male cosa allora devo lasciarlo venire qui e permettergli di portarti via davanti ai miei occhi no e la voce di lei era quasi un bisbiglio mentre gli accarezzava dolcemente la mano allora lasciate fare a me e non vi preoccupate però in modo che non gli facciano male per quel che lui sia preoccupato di voi non torneremo ad Hawson manderò a dire a un paio di ragazzi di equipaggiare un battello per risalire lo Yukon attraverseremo la concessione e discenderemo con una zattera l'Indian River per andare loro incontro e poi la sua testa appoggiava sopra la spalla di lui le loro voci scesero verso le tonalità più dolci e ogni parola era una carezza il gesuita si agitava nervosamente e poi lei ripetì ancora poi risaliremo la corrente sempre più su fino alla White Horse Rapids e al Box Cannon sì e a Sixty Mile River e poi ai laghi Chilkut Dea e Saltwater ma caro io non so condurre una barca piccola sciocca cercherò di farmi aiutare da Sitka Charlie conosce le acque buone e i punti più adatti per accamparsi ed è il miglior viaggiatore che abbia mai incontrato anche se è un indiano tutto quello che dovrete fare sarà di starvene seduta nella barca e cantare canzoni e fare la parte di Cleopatra e scacciare no siamo fortunati è troppo presto per le zanzare e poi oh mio Antonio e poi un vapore San Francisco e il mondo non torneremo mai più in questo buco maledetto pensateci il mondo tutto di fronte a noi venderò ogni cosa perché badate siamo ricchi il sindacato di Walgurd vi darà mezzo milione per l'oro che rimane nel suolo e io possiedo due volte tanto fra mucchi di terra da lavare e la polvere depositata presso la PC Company andremo all'esposizione di Parigi del 1900 andremo a Gerusalemme se lo vorrete compreremo un palazzo in Italia e voi vi divertirete a fare Cleopatra no sarete Lucrezia Atte o qualunque altra piazzerà al vostro cuore di diventare ma non dovete davvero non dovete la moglie di Cesare sarà al di sopra di ogni rimprovero naturalmente ma ma io non sarò vostra moglie non è vero caro non è questo che volevo dire ma mi amerito ugualmente e non penserete mai eppure io so che sarete come tutti gli altri uomini vi stancherete di me vi stancherete di me e come potete io promettetemi sì sì ve lo prometto vi sembra così facile a dirsi caro ma come potete saperlo o come posso saperlo io ho così poco da dare e tuttavia è così tanto è tutto quello che ho oh Clyde promettetemi che non via vi prego non dovete cominciare a dubitare già ora finché morte non ci separi sapete pensare una volta ho detto questo a a lui e ora e ora mio amore non dovete mai più pensare a queste cose certo che mai e poi mai io e per la prima volta le loro labbra si accostarono tremanti padre Rubo che dalla finestra aveva tenuto sotto controllo la pista principale non resistette oltre all'attenzione si schiarì la gola voltandosi verso di loro ora tocca a voi padre il volto di Wharton ardeva ancora per il fuoco di quel primo bacio c'era nella sua voce come una nota di trionfo mentre dava la parola all'altro non aveva dubbi sul risultato né ne aveva Grace che si rivolse verso il sacerdote con la bocca atteggiata a un vago sorriso figliuola mia cominciò il mio cuore sanguina per voi è un bel sogno ma non può avverarsi e perché padre io ho accettato non sapevi quel che facevi non pensavi all'altro giuramento a quello che hai già fatto davanti a Dio a quello che ora è tuo marito è a me che spetta farti capire la santità di quel voto e seppur avendo capito rifiutassi allora Dio quale Dio mio marito venera un Dio che io non riconosco devono essersene altri figliuola ritira queste parole tu non ne comprendi il significato io lo comprendo ho vissuto anch'io momenti simili e per un attimo egli fu di nuovo nella sua francia natia e tra lui e la donna di fronte come da una nebbia emerse un volto pensoso dallo sguardo triste allora padre il mio Dio mi ha abbandonato non sono più cattiva delle altre donne la mia infelicità con quell'uomo è stata grande perché deve diventare più grande ancora perché non posso tendere la mano a cogliere un po' di gioia io non posso non voglio tornare da lui sei tu piuttosto che hai abbandonato il tuo Dio torna a lui abbandona a lui il tuo fardello e le tenebre ti saranno rischierate figlia mia cara no è inutile ho fatto la mia scelta e la seguirò costi quel che costi andrò fino in fondo e se Dio mi punisce dovrò sopportare in un modo o nell'altro voi non potete capirmi non siete una donna mia madre era una donna ma e Cristo è nato da una donna lei non rispose cadde in un gran silenzio Wharton si riusciava i baffi con impazienza e teneva d'occhio la pista Grace appoggiava i gomiti sul tavolo il volto più che mai deciso il sorriso ormai era scomparso padre Roubault spostò la questione su un terreno diverso avete figli? una volta ne desideravo ma ora no sono grata di non averne avuti avete una madre? sì e vi ama? sì le risposte non erano che sussurri è un fratello non importa è un uomo ma una sorella? la testa di lei sì che no a indicare un tremolante sì più giovane? di molto? sette anni e hai pensato bene a tutto questo? hai pensato bene a loro? a tua madre? a tua sorella? ella non ha ancora varcata la soglia della sua vita di donna e già questa tua follia può significare molto per lei potresti ancora dopo tutto questo presentarti a lei levare gli occhi verso quel volto giovane e sereno tenere la sua mano nella tua e accostare alla sua la tua guancia al suono di queste parole scorrevano davanti alla mente di lei le immagini più vivide ed ella gridò basta basta e indietreggiava come fanno i cani lupo di fronte alla frusta ma devi pensare a tutto ciò ed è meglio che ci pensi ora negli occhi del padre che la non poteva vedere c'era una gran compassione ma il volto teso e fremente non mostrava indulgenza lei sollevò la testa dal tavolo ricacciò indietro le lacrime lottò per riacquistare il controllo me ne andrò via non mi vedranno più e finiranno con il dimenticarmi sarò come morta per loro e io andrò con Clyde oggi sembrava finita Wharton fece un passo in avanti ma il sacerdote lo trattenne con un cenno hai mai desiderato dei bimbi seguì un silenzioso segno d'assenso e hai pregato per averli spesso ed hai pensato nel caso che questi bimbi venissero gli occhi di padre Rubo si fermarono per un attimo sull'uomo vicino alla finestra un lampo rapido passò sul volto di lei poi l'intero significato di quelle parole le fu chiaro alzò le mani quasi pregando ma egli andò avanti puoi immaginare un bimbo innocente tra le tue brazza un maschietto il mondo non è così duro con una fanciulla il tuo stesso latte si muterebbe infiele al pensiero e riusciresti ad essere orgogliosa e felice del tuo piccolo guardando gli altri bambini o per pietà tacete un capro espiatorio non dite così tornerò indietro ed era ai suoi piedi un bimbo da crescere senza alcuna nozione del male e al quale un giorno il mondo penserà rinfacciare la colpa di sua madre un figlio che maledirà con il tempo gli stessi lombi che lo hanno generato oh mio dio mio dio ella si prostrò al suolo il sacerdote sospirò e la rialzò in piedi Wharton si fece avanti ma lei lo tenne lontano con un gesto non avvicinatevi Clyde io torno indietro lacrime le scorrebano lungo il viso disperato né lei faceva alcuno sforzo per asciugarle dopo tutto questo non potete non ve lo permetterò non toccatemi e si ritrasse tremando no io vi voglio siete mia mi sentite siete mia poi si volse al prete che pazzo sono stato a lasciarvi usare quella vostra lingua folle ringraziate il vostro dio che non siete un uomo come gli altri perché io ma il vostro privilegio sacerdotale doveva essere esercitato non è vero bene ora che lo avete fatto uscite dalla mia casa prima che mi dimentichi chi siete e cosa rappresentate padre ruvo si inchinò prese la donna per mano e si avviò verso la porta ma worton tagliò loro la strada grace voi avete detto di amarmi non è vero si e mi amate ancora si ditelo ancora vi amo Clyde davvero vi amo ecco vedete prete gridò l'avete sentito voi stesso ed è con queste parole sulle labbra che voi la rimanderete a vivere a mentire all'inferno con quell'uomo ma padre ruvo spinse con forza la donna nella camera interna e chiuse la porta tacete sussurrò a worton mentre assumeva sedendosi un atteggiamento disinvolto ricordate per amor suo aggiunse si udì un colpo garbato alla porta poi qualcuno alzò il gancio ed edu bentham entrò nella stanza avete visto mia moglie per caso chiese dopo un rapido saluto due teste si mostrano in cenno di diniego ne ho visto le tracce che scendevano dalla capanna e si perdono proprio qua di fronte sul sentiero principale i due ascoltavano seccati e pensavo che fosse qui scatta whorton il prete con uno sguardo gli impose di tacere avete visto le sue impronte che portavano a questa capanna figliuolo non a caso padre rubo aveva astutamente avuto buona cura di cancellarle lui stesso un'ora prima quando aveva risalito quel sentiero non mi sono fermato a guardare io i suoi occhi si soffermarono con sospetto sulla porta dell'altra stanza poi di nuovo sul prete con aria interrogativa quest'ultimo scosse il capo ma il dubbio sembrava ancora aleggiare padre rubo recitò mentalmente una veloce e silenziosa preghiera e si levò in piedi se dubitate di me ebbene fece il gesto di aprire quella porta un prete non poteva mentire e Twin Bentham lo aveva spesso sentito dire e ne era convinto certo che no padre si affrettò a rispondere mi chiedevo solo dove fosse andata mia moglie e pensavo che forse immagino che sia da Missy Stanton a French Book bella giornata non è vero avete sentito le novità la farina è scesa a 40 dollari ogni 45 chili e dicono che i Sheshaka scendono il fiume a centinaia ma devo andare ci vediamo la porta sbatte rumorosamente dietro di lui e dalla finestra i due lo videro riprendere la ricerca in direzione di French Book alcune settimane più tardi subito dopo le piene di giugno due uomini spinsero una canoa nel mezzo della corrente assicurandola ad un tronco alla deriva il tronco fece tendere la cima e si trascinò dietro la fragile imbarcazione come avrebbe fatto una barca da rimorchio padre Rubo aveva ricevuto l'ordine di lasciare la parte settentrionale di quella zona e di tornare tra i suoi figliuoli dalla carnagione scura a Minouk erano giunti tra loro gli uomini bianchi ed essi avevano cominciato a dedicare troppo poco tempo alla pesca e troppo invece a una certa divinità la cui dimora temporanea risiedeva in innumerevoli bottiglie scure Malemute Kid aveva anche lui degli affari nel paese del sud così viaggiarono insieme ma un uomo soltanto in tutta la terra del nord conosceva l'uomo Paul Rubo e quell'uomo era Malemute Kid solo davanti a quest'uomo il prete gettava da un canto la sua veste sacerdotale e l'uomo rimaneva nudo e perché non avrebbe dovuto i due uomini si conoscevano bene non avevano forse diviso l'ultimo boccone di pesce l'ultima presa di tabacco ogni più intimo e recondito pensiero sulle distese aride del mare di Bering nell'estenuante labirinto del Gran Delta in quel terribile viaggio invernale da Point Barrow a Porcupine padre Rubo aspirò con forza dalla sua vecchia pipa e guardò a lungo il disco rosso del sole che pigramente si attardava sul limite dell'orizzonte del nord Malemute Kid caricò l'orologio era mezzanotte coraggio vecchio mio Kid riprendeva evidentemente un discorso interrotto Dio perdonerà sicuramente una bugia come questa ascolta le parole di un uomo che è riuscito a cogliere la verità se lei ti ha sussurrato una parola ricorda le tue labbra saranno sigillate e la spada del demonio cadrà su colui che svelerà il segreto ma se un tuo amico ha problemi e se una menzogna delle pioniere può aiutarlo allora menti menti finché riuscirai a muovere le labbra e finché anche un solo uomo viverà per ascoltare padre Rubo si tolse la pipa dalla bocca e si fermò a riflette chi ha detto queste parole aveva ragione ma la mia anima non soffre per questo la menzogna e il castigo sono pertinenza di dio ma ma che cosa allora la tua coscienza è tranquilla non come pensi kid ci ho riflettuto molto ma non sono riuscito a venirne a capo io sapevo eppure l'ho rimandata indietro le note limpide del canto di un pettirosso eccheggiarono dalla boscaglia oltre la riva una pernice fece risuonare in lontananza il suo richiamo e si sentì il fragore di acque basse che un'alce attraversava rumorosamente in qualche punto del fiume ma i due uomini continuarono a fumare in silenzio